Siamo sotto la sede del Consiglio regionale che è in corso e stiamo chiedendo di cederci. Adesso protocolliamo la domanda ufficiale perché ad oggi i 471 navigator non hanno avuto ancora una risposta ufficiale dalla regione Campania. Allora sappiamo ufficialmente che sta il Consiglio regionale e chiediamo di essere ricevuti. Vogliamo spiegare sia ai consiglieri, sia al Presidente De Luca, sia al Presidente del Consiglio regionale le nostre motivazioni. Abbiamo vinto un concorso, siamo legittimati, abbiamo questo diritto che loro non devono ledere, assolutamente. Non vogliono firmare la Convenzione ma non ci hanno spiegato perché e quindi vogliamo spiegare le nostre motivazioni e vogliamo una risposta ufficiale del perché ad oggi non sappiamo nulla da questa istituzione che invece ci dovrebbe rappresentare e che sta ledendo il nostro diritto costituzionale.